Allora, internet, i pericoli, il rete, ma soprattutto le truffe, truffe sentimentali, truffe amorose, ce ne stiamo occupando moltissimo, mamma e figlio sceglievano sui social uomini soli e vulnerabili. Copertina. Mi diceva sempre che vengo a cercare con mio figlio, capito qua, sono sotto casa tua. Ti rovino, ti rovino, ti rovino, ti faccio venire a cercare con mio figlio, ti rovino. Di che cifra parliamo? Sì. 10.000 euro. Madre e figlio, dopo aver scelto sui social profili di uomini soli e vulnerabili, li adescavano fingendosi una bella donna. Dopo un poco le scuse più svariate iniziavano a chiedere loro soldi, per poi minacciarli in caso di rifiuto. Chi rovino, non capi più con me, non capi più. Questi soldi adesso, che fine hanno fatto? Non ce l'ho più. Allora, una vittima collegata con noi e poi abbiamo Antonino Zangra, che è il comandante della compagnia Carabinieri, che sta seguendo tutto questo caso e che ha permesso di arrestare queste due persone. Chi sono questi due? Mamma e figlio, dicevamo, adescavano le loro vittime su internet, su dei siti di incontri. Noi ascoltiamo degli audio adesso, audio che ci sono arrivati pochi istanti fa in redazione. Sentite. Lo sai che voglio bene, no? Perché ti devo rovinare dopo tutto che mi ha aiutato? Perciò, vedi, ti aiutami l'ultima volta, ti dammi questi 220 euro entro domani? Che se vuoi ce la fai? Ma uno, se invece devi dare una denuncia, cioè, invece di piassare una denuncia, evita, no? E le manda, o fa una cosa che non devi fare, la devi fare per forza, la fa. Evita, perché è meglio. Mi hanno chiesto il numero, io sai che in un momento va a finire il mazzicasino per non dargli il numero? Perché mi hanno detto che, eh? Se io non gli do il numero col cognome, eh? Non ho falsa testimonianza. Mi hanno detto un nome strano. Continuiamo a sentire il secondo audio. Mi vuoi che ti vengono a cercare a casa e ti fa fare una figuraccia di m***o davanti a tua madre? Eh? Vuoi questo? Te lo stanno a cercare, eh? Il terzo. Tra poco vi spieghiamo tutto. Faccio veramente fin in là, di me la tua madre è quello che mi ha fatto, con tanto di fogli, di foto e tutto. Gli dico, vedi, il suo figlio che fa? E poi gli fa fare, vedi pure le foto mie, certo. Ok, allora, questi audio, Roberta Spinelli, ce li spieghi bene? Ce n'è un altro da mandare? Sì, buongiorno Eleonora. Scusa, mandiamolo in onda, perché non mi avevano detto che c'era il quarto, mandiamolo. Guarda, sono capace di chiamare il proprietario tuo del lavoro, ricordatelo, eh? Che adesso mi sono informata, chi c***o è? Oh, cerca di rispondere ai messaggi e cerca di rispondere al telefono, che io sono capace di farti cacciata al lavoro. Vai, Roberta. Sì, buongiorno Eleonora, buongiorno a tutti. Minacce, come avete ascoltato, minacce che madre e figlio, in questo caso la madre, che si fingeva, la donna del profilo falso, ovviamente aperto su uno dei social più conosciuti, Facebook, mandava ad Antonio, la vittima che avevamo in collegamento la scorsa volta, minacce precise, dammi i soldi, altrimenti ti rovino. Perché? Perché nel modus operandi di queste due persone, di madre e figlio, c'era l'adescamento che veniva aprendo più profili, abbiamo scoperto Facebook, in base alle risposte, ai commenti che i vari uomini facevano sui social, su questi profili e in base anche al profilo della persona, adescavano questo uomo e poi chiedevano delle foto, magari o se, per poi minacciarli. In questo caso si parla di concorso aggravato, estorsione aggravata in concorso. Nel caso invece di Giuseppe, il nome di fantasia di cui il papà è qui oggi con noi, si parla di truffa. Perché? Perché Giuseppe viene adescato tramite i social, poi passa tutto sul cellulare, quindi i rapporti sono telefonici. Giuseppe si innamora di questa donna che in realtà non esiste e a salvare Giuseppe questa volta è il papà che è qui con noi. Come si è accorto che qualcosa non andava più bene e che c'era qualcosa che turbava suo figlio? Beh, abbiamo visto che il ragazzo era molto agitato e riceveva telefonate continuamente anche nel posto di lavoro e quindi chiedevo, c'è, però lui non mi diceva quello che succedeva. Alla fine con un estratto conto siamo riusciti a capire perché uscivano tutti questi soldi, dove andavano. E lì man mano abbiamo capito che c'era qualcosa che non funzionava. Qual è la cifra che suo figlio ha dato tramite varie ricariche? Perché venivano considerate, questa donna che poi in realtà era la sessantenne che in questo momento è agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, chiedeva con le scuse più svariate, soprattutto con problemi economici. Vi diciamo Eleonora che madre e figlia sono nullatenenti, vivevano proprio di truffe ed estorsioni. Madre e figlio, un figlio di 30 anni, madre e figlio, vivevano di estorsioni e di truffe. Cioè questo era il loro modo di vivere. Loro riuscivano ad andare avanti truffando uomini ed estorcendo denaro sotto minaccia. Quanti soldi? Giuseppe, oltre a sapere quanti soldi, prima però volevo capire, lei come ha fatto a sapere che suo figlio era, diciamo, sotto minaccia di questa gente? Gli ha parlato, gli ha detto niente, ha capito che c'era qualcosa di strano, è arrivato a fare gesti strani? Con queste persone io non ho mai parlato, però tramite il telefono di mio figlio siamo riusciti a capire che c'era qualcosa che non andava, perché dall'estratto conto mancavano continuamente soldi, e alla fine abbiamo capito che c'era una persona, con noi abbiamo tutti gli scontrini, diciamo, che faceva per... è 49 adesso. 49. E lei capiva... E l'onora... Scusa un attimo, Roberto, adesso arrivo un attimo da te. Lei capiva che c'era qualcosa di strano perché vedeva sul conto corrente continuamente soldi che sparivano. Ad un certo punto che cosa ha fatto? Sì, ma anche la... Lei ha capito che qualcuno stava spillando soldi a suo figlio? Che ha fatto? Scusa, certo, certo. Io l'unica cosa che abbiamo fatto è di poter fermare questa cosa dicendo a mio figlio che non andava bene una cosa del genere, perché lui, lavorando tutto il giorno e compagnia bella, poi doveva buttare dei soldi per questa persona che nemmeno la conosceva così tramite il telefono, perché non l'ha mai incontrata. Per cui a un certo punto... Dimmi, dimmi, Roberto. È importante spiegare che in questo caso si tratta non di estorsione ma di truffa, perché i due madre e figlia non sono arrivati a minacciare il figlio Giuseppe, di cui abbiamo il papà qui, perché il papà di Giuseppe con la madre hanno bloccato la truffa denunciando queste due persone, questa donna, e poi incrociando i dati i carabinieri sono arrivati a individuare quella donna che in realtà era un profilo falso con madre e figlio che nel frattempo avevano estorto del denaro ad altre due persone. Si parla di 25 mila euro in totale, quindi in questo caso è truffa, non l'estorsione. Non c'erano minacce, c'era solo un rapporto amoroso. Roberta, scusami, in questo caso è truffa, però queste persone hanno estorto soldi ad altri, ok? Se non ci fosse stato questo padre così bravo, attento, premuroso, sarebbero andati avanti con l'estorsione anche qui. Cioè non è che perché qui non è truffa, ma l'hanno bloccata in tempo, per fortuna che l'hanno denunciata. Ma non è che non avessero poi portato avanti le loro estorsioni, ok? No, sarebbero sicuramente arrivati all'estorsione. Giuseppe, Giuseppe, le estorsioni sono andate avanti con altri, meno male che lei ha denunciato, perché ad un altro che noi abbiamo intervistato venerdì scorso, guardi che messaggio gli mandavano, ascolti. Sì. Ti prego, guarda magari sulla coscienza, giuro, più non giuro, magari sulla coscienza vita, non capi più con me, non capi più. La mia madre, ti rovino, ti rovino, ti rovino, ti faccio venire a cercarmi il mio figlio, ti rovino. Ti rovino, se non ho mai in 650 euro, ti rovino, ti rovino, ti rovino, ti mando tutto il branco, non lo so di chi, ti rovino. Cioè, le modalità di operazione che avevano queste persone è questa. Cioè, sarebbero arrivati, probabilmente con suo figlio, che è stanco di elargire soldi e di essere truffato, magari se sarebbe opposto, voi sareste opposto senza fare denuncia, però, sarebbero arrivati a questo tipo di minaccia. Sì, anche perché questa denuncia indubbiamente ha dato il là a tutte le indagini, quindi sono scoperte anche le istruzioni. È chiaro che tra truffa e istruzioni sono due reati molto diversi, hanno due strutture diverse, perché la truffa presuppone artifici e raggiri e il danno economico della vittima. L'istruzione ha un elemento in più che è la minaccia della prospettazione di un male ingiusto. Quindi due reati puniti anche in maniera molto diversa, ma entrambi gravi. Ma attenzione, la questione delle truffe sentimentali in Italia sta diventando una piaga nazionale, perché coinvolge nell'80% donne e oggi vediamo anche uomini. La questione è molto seria, perché la Polizia Postale, nonostante la sua organizzazione, non riesce a fare fronte a questo fenomeno, che spesso e volentieri, tranne nel caso specifico, proviene dall'estero. E siccome non esistono molte volte raccordi tra Stati, queste truffe sentimentali stanno in aumento, perché spesso e volentieri, quando partono i bonifici per l'estero, i soldi non possono essere più recuperati. Cosa raccontava suo figlio questa donna? Mandava delle foto Osee? Come si faceva a mandare i soldi al suo figlio? Facevano i bonifici in base alla richiesta che faceva questa signora, signorina, non so nemmeno chi era, perché chiedeva 200 euro per i denti, un'altra volta per l'affitto della casa che la sfrattavano, un'altra volta perché doveva andare da un'altra parte, diciamo non so dove, come, quello che gli raccontava. Adesso i particolari sinceramente non li so, ma questo è quello che mi poteva dire mio figlio, che riuscivo a carpire da quello che mi poteva dire lui. Ma suo figlio si era innamorato? Sì, poi tutte... Suo figlio si era innamorato? Ma non è innamorato, era così. Mio figlio ha bisogno di una persona che sta vicino, diciamo così, come amico. Poi se viene, viene, ma qui non era questione di amicizie, di benvolere, eccetera, qui era soltanto di soldi, 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 continuamente soldi. Però Giuseppe glielo chiedo per capire come si era grappata questa persona a suo figlio, attraverso che cosa? Tramite i telefoni, tramite Whatsapp, come si chiama lì? Io non so nemmeno come si chiama quella cosa che si sono messi in contatto. E quindi con quel contatto questa richiedeva, e lei gli faceva vedere delle foto sempre nel telefono, e lui praticamente si convinceva di mandare questi soldi, tutto lì. Il suo figlio si era convinto di avere un rapporto sentimentale con questa donna? Certo, certo, certamente. E' una fragilità psichica. Sì, sentiamo. Ciao Ima, buongiorno. Dimmi, Calipo. Sì, io dico che questa è una fragilità. Sicuramente sono persone che hanno la capacità di cogliere la fragilità in persone e piano piano estillare. Non è un caso che le cifre siano piccole, perché queste cifre permettono di creare una dipendenza in cambio di un ritorno emotivo. Quindi sono persone che cadono in questa sorta di trappola emotiva e che poi piano piano si spinge sempre più avanti. Quindi benvenga le denunce, io ringrazio il padre perché bisogna sempre denunciare, perché denunciando non si salva solo se stessi, ma si salvano anche altre persone coinvolte. Allora, considerate che il signor Antonio l'altro giorno, un'altra vittima, Antonio è un lavoratore e mi diceva, mi raccontava in diretta, sì, mi mandava sempre delle foto, foto nude, foto, insomma, osè, non erano le sue, non erano quelle di questa donna, erano foto di profili rubati. Non esiste la donna. Per cui non foto proprie. E sotto ricatto sessuale poi cercava questi soldi. Prego, Ima. No, io volevo soltanto dire che il problema comunque del mondo digitale è un problema che va affrontato in maniera molto seria perché appunto la catena che crea, intanto evidentemente su profili probabilmente già fragili, il fatto poi di richiudersi in casa davanti al cellulare piuttosto che a un computer e immaginare amori, immaginare donne o uomini avvenenti a qualunque tipo di età e alimentare poi la catena del porno, no? È chiaro che è un problema, noi non dobbiamo far finta, come diceva lei, avvocato, no? È in aumento la truffa amorosa, ma è in aumento perché? Perché il contatto attraverso computer è facilmente... È immediato. Esatto. Non è filtrato. Truffabile. Spesso e volentieri sono foto di profili falsi. Quindi io penso che... Questo noi lo dobbiamo dire. Esatto, io penso che l'identità digitale deve diventare esattamente come il documento di identità. Noi dobbiamo finirla di dare la possibilità di creare fake, no? Sono immacolata battaglia, lo devo essere con il documento di identità piuttosto che nel mondo digitale. Quanti soldi hanno rubato al figlio di Giuseppe? Sentiamo il comandante Zangla. Comandante, quanti soldi hanno rubato in tutto? Questi soldi... Buongiorno a tutti. Che fine hanno fatto? Allora, nel caso specifico, i bonifici, diciamo, sono delle ricariche post-pay che sono state fatte appunto a questa signora che faceva le truffe. In totale si aggirano quasi a 1.500 euro. Ma qui sono tutti importi di 50 euro, 200 euro, fino ad arrivare a 750 euro in una circostanza. Però è stato molto bravo il padre perché il padre, a differenza di come è avvenuto con Antonio, che ci siamo arrivati noi carabinieri attraverso delle indagini tecniche, in questa circostanza si è arrivati grazie alla funzione sociale che svolge la stazione carabinieri sul territorio. Il padre, infatti, si è rivolto a noi e ha sporto denuncia. Il tutto coordinato appunto dalla procura di Viterbo ci ha fatto sì di emettere delle ordinanze su tre capi di imputazione. Due sono appunto quelle delle estorsioni, come dicevate prima in studio, e una in questo caso è quella della truffa perché si è fermato prima, si è fermato nella fase in cui ancora Giuseppe non aveva fatto, diciamo, ostruzionismo ai pagamenti. Perché se fosse giunta la fase in cui Giuseppe avesse detto che non poteva più pagare, sicuramente si sarebbe passati alla minaccia. Certo. E allora diamo anche un consiglio per chi ci ascolta da casa. Se come il signor Giuseppe vedete che sui conti ricorrenti di vostro figlio c'è qualcosa che non va, se cercate di capire e comprendere che magari qualcuno si è insinuato su internet e sta cercando di portare via serenità, serenità e bellezza di vita, no? Da qualcuno che si innamora di una foto, di un profilo fake. Ecco, segnalate, denunciate, non abbiate paura. Non so, Donaldo, se mi vuoi aiutare lei. Non mandate soldi, soprattutto. Assolutamente e con una particolare attenzione verso le persone che voi stessi avete sottolineato, le persone più vulnerabili, quelle che sappiamo che sono più sole o che magari passano un momento difficile della loro vita, magari perché lasciati da un problema affettivo, eccetera. Quindi bisogna con il dialogo, perché oggi spesso viene sostituito dai dispositivi, quel dialogo invece interpersonale è così importante, no? Che anche ci fa capire se la persona si è chiusa in qualche spazio virtuale che poi purtroppo, ahimè, diventa una reale violenza, perché ecco, prima sentire quelle parole di questi delinquenti, no? Cioè proprio ecco, la violenza inaudita verso persone deboli, verso persone che sono cadute nella rete e magari a volte ci può cadere anche una persona non che ha chissà quali problemi, magari una persona che si ritrova a un periodo di solitudine, di ormai questa tecnologia e anche i giovani, diciamolo ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, che il gioco a volte poi diventa il gioco virtuale, dal gioco virtuale si può passare a incontri pericolosi, anche a partire dai minorenni, ecco perché sono perfettamente d'accordo sul discorso dell'identità digitale. La pubblicità, grazie Antonino Zangla, comandante compagnia dei Carabinieri, grazie anche al signor Giuseppe e alla nostra Roberta.